Francesco Bianconi e Luciano Bianciardi, la miniera di Niccioleta e i minatori. Il cantautore senesi che come Bianciardi ha lasciato la provincia per Milano è arrivato ieri in Maremma per parlare proprio dell'autore della vita agra in uno degli incontri più attesi del programma dei luoghi del tempo. È emozionante essere in un luogo così perché poi i luoghi restituiscono il sentimento è come se ci fossero poi rimanessero le tracce anche delle persone in questo caso che ci hanno vissuto, lavorato per cui io sono sempre molto impressionato dai posti e dai luoghi in cui c'è stato qualcosa di importante, di emozionante, per cui sono doppiamente felice di essere qua, ecco, in un luogo così pregno ed denso di senso. Quanto vi ha ispirato, a te in particolare come autore, come cantautore, anche con i Baustelle, la figura di Bianciardi? Guarda, parecchio credo perché io Bianciardi l'ho scoperto anche molto a sorpresa perché paradossalmente fino al liceo nessuno me ne aveva mai parlato, io vengo da un paese in provincia di Siena, da Monteculciano, neanche poi così lontano, però a quei tempi non era così ancora rivalutato, a scuola non te ne parlavano, ancora più grave e quindi l'ho scoperto a casa di una mia amica che aveva la vitagra, l'ho letto così incuriosito, ho preso il libro dallo scaffale e secondo me sono quelle cose che un po' ti lasci, perché una cosa che ti piace, che ti arriva a sorpresa come una folgorazione poi in qualche modo te la porti dietro. Ci sono anche diverse citazioni. Sì, sì, c'è una canzone in particolare che ho scritto per Baustelle, Siamo Romantico a Milano, è praticamente in cui faccio questa sorta di ironico parallelismo fra me e lui, nel senso che io mi ero appena trasferito a Milano per andare a lavorare nella redazione di un giornale per cui sapevo che lui, la sua biografia era un po' andata così, abbiamo anche un pezzo di cognome in comune che lui aveva lasciato la provincia per andare a Milano per una questione di lavoro, per entrare a lavorare in questo... per cui mi è sempre molto intrigato, una sorta, sai, di quelle... come un nonno a distanza, una sorta di... strano appunto, parentela, gemellaggio a distanza, mi sono sempre un po' rivisto. E la provincia? I provinciali? La provincia è una condizione dello spirito, che vuoi che ti dica? La provincia, Bianciardi, come dire, non certo se lui è scappato, ma era fortemente critico e poi per il posto in cui è approdato a Milano, era un'epoca in cui lui aveva, peraltro, secondo me questa versione forse ideale della provincia come posto da... sì, ci scappi, ma allo stesso tempo è in antitesi poi con quello che era diventata negli anni 50 la città, che stava diventando, quindi spersonalizzata, alienante, la città, insomma, in cui nessuno... se uno casca per terra perché sta male nessuno si china ad aiutare, per cui per lui la provincia era una sorta di chiave critica del consumismo e del cosiddetto miracolo economico che stava per accadere. Lui prima di altri l'ha vista questa cosa, prima di Pasolini ad esempio. Bianconi, da sempre legato alla Maremma, ha ricordato durante il suo intervento di quando il bambino raggiungeva la nostra costa per venire al mare. Io mi ricordo quando venivo qua in Maremma, l'asfalto di Maremma, non so se sbaglio, luccicava, era caratterizzato dal fatto che i miei amici qua di Grosseto dicevano la pirite, c'era la pirite, e c'era una sorta di grande ricerca con dei coltellini, coi cucchiaini, si estraeva questa pirite come se fossero pepite d'oro, per cui per me il nome è la pirite, mi evoca, ricordi lontano. Sì, anche io me la ricordo.